Assemblea dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nel comune di Locri. L'incontro, fortemente richiesto dai lavoratori, è servito per discutere le problematiche inerenti alla mancata contrattualizzazione di 15 unità lavorative tra LSO e LPU, così come previsto dalla legge che equipara il bando regionale a quello nazionale, prevedendo un fondo che consente ai comuni di stipulare contratti senza alcun costo per le casse municipali. Due settimane fa il segretario della Will Temp aveva chiesto in una dichiarazione pubblica al sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, di procedere immediatamente alla firma dei contratti dei precari comunali. La stabilizzazione dei precari calabresi è una vittoria di tutti, spiega Stefano Princi, conclusa grazie alla lunga battaglia che il sindacato ha condotto al fianco dei lavoratori. Al sindaco calabrese chiediamo di avviare immediatamente l'iter per la contrattualizzazione. Con le sue osservazioni speciose fino ad oggi ha fatto già abbastanza danni. Ora basta chiacchiere e si va da sottoscrivere i contratti. Presente ad esprimere solidarietà ai precari del comune di Locri, il consigliere di minoranza Maria Antonella Gozzi, il referente comunale di sinistra Ecologia e Libertà Antonio Guerrieri e la rappresentante della segreteria provinciale del Partito Democratico di Reggio Calabria, Barbara Panetta.